Vedo una cassa d'armi Siete arrivati appena in tempo La situazione cominciava a farsi complicata per me Questo non è esattamente un salvataggio, Bowman Adesso sei sotto la mia custodia Ho alcune domande da farti Di che sta parlando? Dopo, adesso muoviamoci Posso almeno avere un'arma? Walker ha alcune domande da farti Da quanto tempo lavoriamo insieme? Minson, me basta Sto marcando un rifugio sulla mappa Parleremo lì Anche senza di me Dobbiamo cercare attività nemica in zona Ehi, un soldato dell'Unidad Il serbatoio, lo vedete? Ho un altro bersaglio Ehi, abbiamo già trovato! Ehi, qui? Ehi, qui? Tantemi una cazzo di arma! Tantemi una inquisita! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.